il rapper milanese si lascia scappare la sua volontà di allargare ulteriormente la famiglia in un divertentissimo video con la piccola vittoria i ferragnez hanno intenzione di allargare la famiglia stando a quanto si è fatto scappare fedez in una sua storia instagram sembra proprio di sì i piccoli leone vittoria infatti potrebbero avere presto un fratellino o una sorellina stando a quanto ha fatto intendere velatamente il rapper milanese in un divertentissimo video che lo vede protagonista insieme alla sua figlia più piccola baby vitto fedez infatti che è solito riprendere sua figlia vittoria e le sue esilaranti gag casalinghe ha fatto un video alla bambina mentre indossava un guantone da pugile e si avvicinava sempre più a suo papà divertita la piccola vitto ha sferrato un bel pugno a fedez colpendo le sue parti intime e così il marito di chiara ferragni si è lasciato andare a un commento che ha colpito tutti alludendo a una sua volontà di allargare la sua famiglia ma è una pugile sei una pugile ha esordito fedez rivolgendosi a vittoria con il guantone in mano per poi aggiungere una volta colpito dalla bimba hai le palline del papà vorrei avere altri figli amore e così fedez che ama fare il papà e crescere i suoi due bimbi leone vittoria come dimostra lui stesso con i suoi racconti social delle scene di vita quotidiana di casa ferragnez sembra proprio voler avere una famiglia ancora più numerosa cosa ne pensa sua moglie chiara ferragni staremo a vedere ma per adesso nella sua mente sembra esserci solo una cosa sanremo a vedere ma per adesso Grazie a tutti.